Buongiorno, ben ritrovati con una nuova edizione di TGNET 24. Cresce la tensione in Libia. Sono stati trasferiti 550 marine dagli Stati Uniti nella base di Sigonella in Sicilia. Vediamo. Cresce pericolosamente la tensione sulle sponde del Mediterraneo. Gli Stati Uniti hanno deciso di spostare una parte del contingente di 550 marines arrivati a Moroni, in Spagna, due settimane fa, alla base di Sigonella in Sicilia dopo i recenti attacchi in Libia. Per il momento si tratta di un'operazione a titolo precauzionale che riguarda solo alcune decine di soldati. Meno di cento hanno assicurato dal Pentagono. Washington teme nuovi attentati contro i diplomatici statunitensi mentre gli USA infuria ancora la polemica, il circo politico, secondo la definizione del presidente Barack Obama, sugli attacchi al Consolato di Benghazi dell'11 settembre scorso che provocarono la morte dell'ambasciatore Christopher Stevens e di altri tre cittadini statunitensi. Una parte della forza di intervento rapido, composta anche dal C.A. Osprey, velivoli in grado di decollare e atterrare in verticale come un elicottero, di volare come un aereo, è stata spostata a poca distanza dalla Libia alla luce dei rischi crescenti dal punto di vista della sicurezza che avevano convinto gli Stati Uniti e altri paesi a ridurre il personale diplomatico a Tripoli dopo l'autobombo esplosa di fronte all'ambasciata francese che ha provocato almeno 15 morti. Il contingente è stato ribattezzato Unità Benghazi, creata specificatamente dalla difesa statunitense, in risposta alle critiche del congresso dopo gli attentati del settembre scorso al Consolato della città libica. In quell'occasione il Pentagono non sarebbe stato in grado di lanciare rapidamente un'operazione di soccorso perché non erano disponibili le forze necessarie. Crolla la produzione industriale nel nostro paese, meno 5,2% a marzo rispetto allo stesso mese del 2012. Per Eurostat è il peggiore dato tra le grandi economie continentali, ma scendono con noi anche la Germania, meno 1,5% e la Francia, meno 1,6%. Nell'insieme dell'Eurozona il calo è stato dell'1,7%. A crescere sono soltanto Olanda e paesi baltici e crolla nel nostro paese anche il mercato immobiliare, ai minimi dal 1985. Il 2012 è stato un anno nero, le compravendite sono diminuite del 25,7% rispetto al 2011. I leader mondiali cercano una via d'uscita al conflitto siriano, si lavora ad una conferenza di pace a Ginevra e Obama auspica un governo di transizione. Vediamo il servizio. La diplomazia mondiale accelera negli sforzi per trovare una via d'uscita al conflitto siriano. Putin è d'accordo su una soluzione politica, annuncia da Washington. Il premier britannico Cameron reduce da una visita a Mosca. Si lavora a una conferenza per la pace a Ginevra con l'obiettivo di mantenere il paese intatto, ma senza basciare l'Assad, sottolinea Obama, auspicando un governo di transizione. Cameron stringe i tempi anche perché spiega ci sono sempre più prove che il regime di Damasco ha usato armi chimiche contro la popolazione. Intanto il regime siriano ribalta le accuse turche per la strage di sabato nella cittadina di frontiera di Yereyanli, imputando al premier Erdogan la responsabilità delle due autobombe che hanno causato almeno 48 morti e più di 100 feriti.